Oggi una giornata davvero caotica e surreale in Consiglio regionale. Mentre gli abruzzesi stanno soffrendo il contagio del coronavirus, abbiamo scuole chiuse, classi in quarantena, le difficoltà, la confusione del trasporto pubblico locale, in Consiglio regionale oggi le commissioni sono iniziate in ritardo, la maggioranza è in totale stato di confusione per le vicende politiche posti Chieti e post Avezzano, febbo fuori dalla giunta, dentro la giunta, e noi discutiamo da questa mattina, pensate un po' del Napoli Calcio. Nel concedere un milione e duecentomila euro al Napoli Calcio, noi abbiamo abbandonato e abbiamo emarginato tutte le vicende attuali della nostra regione, a cominciare dai vaccini che non ci sono, le tantissime difficoltà di famiglie, persone anziane, i medici di famiglie in difficoltà, i tamponi, il contrasto al coronavirus, gli ospedali in difficoltà, i tanti operatori sanitari che vivono quotidianamente le difficoltà della pandemia. E in Consiglio regionale, grazie al governatore Romano Marsilio, si discute per ore e ore e ore del Napoli Calcio e dei contributi che la giunta regionale ha destinato al Napoli Calcio.